Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico 15 giugno 2023 bitcoin 24.930 dollari in questo momento ragazzi commentiamo la situazione per bitcoin situazione molto delicata molto importante perché stiamo ritestando un precedente livello di resistenza come potenziale supporto e quindi trovare supporto in questa fascia di prezzo rappresenterebbe per bitcoin diciamo la conferma della continuazione dell'up trend quindi ragazzi guardiamo la situazione insieme per bitcoin guardiamo quante altre volte una circostanza simile si è ripetuta o è già accaduta nel grafico di bitcoin e poi ragazzi guardiamo anche il DXY quindi sappiamo che l'andamento del dollaro è inversamente correlato all'andamento di bitcoin ma dei crypto asset in generale quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi se volete sostenere il canale trovate the referral link da utilizzare in descrizione ragazzi guardiamo bitcoin time frame settimanale prima di parlare del punto importante di supporto che stiamo testando guardiamo velocemente le medie mobili sicuramente due medie mobili importanti che in questo momento bitcoin ha fallito di mantenere come punti di supporto sto parlando della media mobile delle 200 settimane che vedete qua in blu e anche la media mobile delle 21 settimane la candela settimanale ha aperto al di sotto al di sotto di entrambe le medie mobili e con il l'iniziale rialzo di questa settimana abbiamo testato entrambe le medie mobili come livello di resistenza quindi sicuramente il fatto che siamo sotto entrambe queste importanti medie mobili è un campanello d'allarme per bitcoin perché abbiamo perso il supporto di importanti livelli dinamici come queste due medie mobili però ragazzi abbiamo comunque un livello molto importante di supporto proprio in questa fascia di prezzo tra i 24.500 e i 25.000 dollari sto parlando del livello di potenziale supporto che potrebbe arrivare dalla neckline di questo testa spalle rialzista vedete come bitcoin ha disegnato durante in un periodo che va da giugno 2022 fino a marzo 2023 un testa spalle rialzista che ha visto poi la violazione della neckline con questa importante candela rialzista della settimana del 13 marzo 2023 vedete come disegniamo la spalla sinistra la testa e la spalla destra con successivo breakout e in questo momento sta avvenendo un ritest proprio della neckline ed è fondamentale questo momento perché nei precedenti bull market diciamo che le fasi rialziste sono state precedute da un ritest proprio di un testa spalle rialzista proprio della neckline di un testa spalle rialzista andiamo a vedere esattamente cosa intendo vedete che qui abbiamo anche qui nel 2019 2020 bitcoin disegna quest'altro testa spalle rialzista quindi spalla sinistra testa e spalla destra breakout e ritest del della neckline e poi ovviamente bull market 2020 2021 la stessa cosa è accaduta se andiamo a vedere l'inizio del bull market 2015 e qui è un po' più forse complessa da intuire la formazione ma abbiamo anche qua una spalla sinistra una testa e una spalla destra un breakout e un ritest successivo per poi vedere un prolungato bull market 2016 2017 quindi se bitcoin dovesse confermare il supporto della neckline diciamo che sarebbe un segnale molto molto importante per i bulls per una potenziale continuazione dell'up trend direi che la fascia di ritest va tra i 24.300 dollari fino ai 25.000 dollari quindi una fascia di all'incirca 500 dollari dove bitcoin dovrebbe riuscire potrebbe riuscire a trovare supporto per poi continuare nell'up trend vediamo se abbiamo delle chiusure al di sotto di questo livello sicuramente sarebbe invalidata l'ipotesi dell'arrivo del supporto guardiamo invece poi ragazzi il DXY interessante perché il dollaro scende in questi ultimi giorni insieme a bitcoin quindi c'è una correlazione quando solitamente questi due indici quindi il DXY e bitcoin si muovono in maniera inversamente correlata abbiamo visto una formazione parabolica del DXY una violazione della parabola e un downtrend l'inizio di un potenziale downtrend per il DXY vi ricordo che dovrebbe andare a beneficiare sicuramente i crypto asset se guardiamo il potenziale target perché solitamente a seguito della violazione di una parabola si arriva a un ritest del livello dello 0.61 0.65 quindi la golden pocket aspettiamoci eventualmente di vedere un DXY in zona 98 barra 97 in questo momento la formazione potrebbe essere una formazione bearish perché abbiamo un massimo un secondo massimo quindi un lower eye mentre abbiamo due livelli uguali di minimo quindi il DXY potrebbe eventualmente essere in corso di andare a disegnare sul grafico un triangolo ribassista con supporto in zona 101 ragazzi quindi fatemi sapere cosa ne pensate se vi sembra legittima l'ipotesi di un ritest della neckline delle testa a spalle cosa ne pensate se funzionerà come supporto eventualmente ne passeremo attraverso vi ringrazio per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao